Buongiorno dalla redazione del Tg della mobilità. Manifestazione in centro questa mattina da Piazza della Repubblica in direzione di Piazza Vittorio Emanuele all'Esquilino sfilano gli studenti iraniani residenti in Italia. Chiusura al traffico in via delle Terme di Diocleziano, via Mendola, via Cavour, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana e via dello Statuto. 21 linee del trasporto pubblico sono deviate su percorsi alternativi ai consueti. L'elenco in dettaglio sul sito romamobilità.it. Il corteo è stato organizzato per richiamare l'attenzione sulla situazione dell'Iran e in particolare sugli arresti di 15.000 persone. Le altre notizie in via Merulana da questa mattina sono previste potature tra Piazza San Giovanni Laterano e Viale Manzoni. L'intervento su questo tratto di strada proseguirà anche domani salvo condizioni critiche di maltempo. Con la chiusura al traffico del tratto Piazza San Giovanni e Viale Manzoni sono deviate le linee 16, 85, 87 e 714. Per il momento è tutto. Un saluto dal Tg della mobilità.